ciao a tutti siamo due di fiori benvenuti in questo nuovo video allora come avete visto dal titolo è un argomento che abbiamo già trattato cioè il mondo del cubing quello proprio a livello mondiale delle competizioni mondiali perché è stato battuto di nuovo stato infranto il record il record mondiale da un coreano che si chiama Seung Bang Cho la pronuncia è a dir poco perfetta che ha battuto il precedente record di Patrick Pons di 10 centesimi di secondo in piccolezza però è diventato di nuovo il dio del del cubing se così possiamo dire e vi lasciamo quindi la clip del video che ovviamente non abbiamo registrato noi l'ho presa da un canale si chiama beginners cuber motivi di copyright si dobbiamo citare principalmente per quello di cui vi lasciamo il video in descrizione e il canale ovviamente vi lasciamo quindi il filmato del record che viene battuto e come al solito in descrizione noi vi lasciamo tutti i social facebook instagram e telegram tutto questo ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video ciao a tutti vi lasciamo alla lì ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti